Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quando pensiamo alla Germania, normalmente pensiamo alla potenza economica, industriale, alle industrie automobilistiche, BMW, Porsche, Mercedes, pensiamo alle industrie chimiche, farmaceutiche, la Bayer, Basf e quant'altro. Ma io non lo sapevo neanche, la Germania è anche una nazione agricola. Ci sono tante pianure, tanti campi, coltivano orzo, frumento, segale e naturalmente le immancabili patate, di cui è la seconda produttrice al mondo. Perché dico questo? Perché nelle scorse settimane ci sono state proteste degli agricoltori che con i loro trattori hanno bloccato raccordi autostradali, centri città e quant'altro. Perché? Ve lo spiega Roberto. Allora, ma quali sono questi motivi della protesta? Partiamo dall'inizio. C'è da dire che in Germania esiste da tanti anni a questa parte lo Schuldenbrems, sarebbe il freno al debito. Durante la pandemia questo freno al debito era stato temporalmente sospeso e adesso che l'emergenza è finita dovrebbe ovviamente ripartire. A fine anno la Corte dei Conti ha bocciato i conti tedeschi denunciando appunto la mancanza di 30 miliardi. Quindi il governo cappeggiato da Scholz ha deciso di rivalersi sugli agricoltori e ha deciso di andare a toccare i privilegi che avevano, pensate un po', dal 1951. Era dal 1951 che hanno lo sconto sul gasolio. Quindi il problema principale per loro è questo, anche se poi denunciano anche un'altra legge del UE che dovrebbe togliere circa il 10% dei campi agricoli già esistenti e un quarto dei rimanenti riconvertirli a biologico. Poi aggiungiamo anche il fatto che al governo ci sono i verdi, i grünen, che vogliono appunto un maggior rispetto per l'ambiente e da alcuni anni in Germania esiste la CO2-Steern, ovvero la tassa sulla CO2, che negli anni è andata sempre salendo e anche questo dovrebbe comunque portare a degli aumenti nella produzione agricola. E quindi già prima gli agricoltori facevano fatica a stare al passo con la concorrenza, visto che altrove c'è meno rispetto per l'ambiente, c'è meno attenzione per gli animali e tutto quanto. E quindi si sono visti pestare i loro diritti e sono andate a protestare ferocemente. Queste manifestazioni hanno avuto il loro apice il 15 gennaio con la grossissima manifestazione a Berlino in cui tutta la città è stata bloccata per un giorno e probabilmente andranno avanti ancora. Per adesso il governo ha concesso la cancellazione delle agevolazioni fiscali in tre anni. Ovviamente la gente non ci sta perché vuole proprio la totale abolizione di questa nuova manovra, ma al momento le proteste potrebbero ancora durare e andare avanti. Cosa ne pensiamo noi? Allora, da una parte è vero, è giusto che gli agricoltori protestino e che ottengano maggiori diritti, migliori paghe e che non chiudano perché al momento attuale sembra che le prospettive sono di chiusura di molte aziende. Però è anche vero che da una parte ci scontriamo anche con l'ambientalismo, con un cambiamento climatico che sta accelerando e quindi come sempre stato l'uomo dovrebbe trovare una soluzione più sostenibile per fare le stesse cose di prima e per avere una produzione più attenta all'ambiente. Ecco, da una parte penso che difficilmente il governo si tirerà indietro, però stiamo anche a vedere perché tutto può succedere. Quello che è stato messo a tacere in questi giorni, soprattutto dai media italiani, è che non solo in Germania ci sono state proteste, ma anche ad esempio in Francia. Per esempio, circa un mese fa, quintali di sterco, di letame, sono stati scaricati sui Champs-Élysées, di fronte all'Eliseo a Parigi e anche di fronte all'ingresso di fast food, d'uffici statali, per protestare contro la troppa burocrazia, la lentezza nell'erogazione dei fondi e poi contro l'abrogazione del sussidio sul gasolio. I francesi quando protestano sono cazzuti. E pensate un'altra cosa, che ad esempio in Belgio ed Olanda le proteste sono iniziate nel marzo del 2023. Per esempio in Olanda, l'11 marzo 2023, si sono registrate circa 10.000 persone all'AIA, sede del governo olandese. Per cosa protestavano? Per la riduzione dei circa 100 milioni di capi di bestiame, tra ovini, bovini, avicoli. Quindi questo porterebbe alla chiusura di circa 11.200 allevamenti che non sarebbero riconvertiti. Ovviamente i contadini sono contro queste misure green del governo, il quale ha tentato di rilevare questi allevamenti, ma per ora ci sono state solo proteste e poche adesioni. Ok, abbiamo capito che in mezzo a Europa hanno protestato, ma una domanda. E l'Italia? Robi ce lo dici tu? Allora, in Italia possiamo dire che al momento tutto tace, non ci sono grosse manifestazioni, c'è stata qualche timida protesta. Ovviamente la fine degli aiuti e queste nuove leggi UE andranno comunque danneggiare anche gli agricoltori italiani. Però c'è da dire che i nostri lavoratori delle campagne usano i trattori non per protestare, ma per fare qualcosa di più creativo. Possiamo vedere che durante le festività natalizie hanno fatto in un comune piemontese una gigante calza della Befana, ovviamente usando trattori, è tutto illuminato. La sera dall'alto si vedeva appunto questa cosa qui ed è molto particolare ed è anche carino, come sfetto finale. Mentre in un paese in Lombardia, nel basso Lodigiano, hanno fatto proprio un trattore gigante utilizzando più di 180 trattori. Possiamo dire che effettivamente forse sarebbe ora che anche gli italiani vadano a protestare per i loro diritti, perché alla fine è giusto così. È giusto far rispettare i più diritti e aver diritto anche a delle paghe adeguate. Anche se secondo me uno dei problemi in Italia, soprattutto in tanti settori, è quello di accettare paghe da fame quasi come se fosse diventata la normalità. Purtroppo al momento è così. Ovviamente ragazzi la situazione è ancora in divenire, possono succedere ancora un sacco di cose. Il governo non sembra voler accontentare gli agricoltori e le proteste non sembrano voler terminare, anche se la situazione si è calmata dal 15 gennaio, ovvero la data peggiore. Monitoreremo la situazione, nel caso proveremo ad aggiornarvi. Il video finisce qui, speriamo vi sia interessato, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, continuate a seguirci e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!